Facciamo un esperimento con blocchi Sony più un retino occhi di mosca, flys eyes lens, più una lente a doppio ingrandimento for two lens, for two magnifier lens. Vediamo il blocchi Sony, sul posto un retino ad occhi di mosca, più una lente a doppio ingrandimento. Vediamo che effetto che fa. Siamo in maniera ridotta delle oltre luminosità, o sono il migliore effetto di profondità. Proviamo. Doodle Duck e Snowfly, Snowfly di 142. Andiamo con la blocchi Sony più un retino occhi di mosca, più una lente a doppio ingrandimento. Vediamo qual è l'effetto che fa. Proviamo una migliore prudità, non scappi da questa luminosità. Sì, non scappi da questa luminosità. No! I'm sorry! I'm pretty sure about you! no 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 Iscriviti al canale! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.